buongiorno a tutti benvenuti e bentornati sul mio canale oggi facciamo l'estrazione del giveaway che è scaduto ieri oggi sto registrando che è il 22 di gennaio non so poi quando lo pubblicherò penso il 24 o il 25 che gioca il mio compleanno e quindi vi faccio un regalo io quindi niente io vi ringrazio ed avete partecipato in tanti avete partecipato in 81 quindi per estrarre il commento del vincitore utilizzerò il sito in questo qui che penso che conoscerete tutti che è sandracires.com e quindi lo facciano insieme io non so adesso se state riuscendo a vedere vi faccio vedere ecco così vedete meglio io praticamente copio il link del video quindi copia e poi lo vado ad incollare qui nello spazzetto qui di questo sito e carichiamo tutti quanti i commenti come vedete la caricati quindi adesso vi mostro appunto vediamo un po chi ha vinto quindi schiacciamo qui sono tesissima ragazzi per voi eccola qui allora sono la kawaii sei tu la vincitrice del mio giveaway e mi hai scritto partecipo spero di vincere veramente e grazie di tutti i premi hai lasciato un commento e questo qui è il like che ti ho lasciato io quindi vediamo un po se sei iscritto al mio canale e se hai seguito tutte quante le mie istruzioni quindi vediamo eccole qua sono già così subito uscita quindi tra le iscrizioni come vedete faccio vedere così ecco quindi lei è iscritta al mio canale ha lasciato anche un mi piace eccolo qui il mio il mio video è questo e ha lasciato il mi piace quindi sarà kawaii sei tu la vincitrice del mio giveaway mi raccomando hai tre giorni di tempo per contattarmi puoi contattarmi per l'email che la trovi sempre giù nell'info box sotto ai miei video oppure puoi contattarmi sui miei social quindi su facebook e anche su instagram su twitter lo uso di meno quindi mi riesci a trovare specialmente su questi due social mi raccomando quindi contattami subito così e mi mostri anche qualche screen del sei condiviso sui social o se non hai social comunque fammelo sapere e niente quindi poi così ci mettiamo d'accordo per la spedizione mi dici prima cosa se sei maggiorenne e mi dai l'indirizzo di dove abiti così ti posso spedire tutti quanti i premi io ringrazio ancora una volta tutti quanti per aver partecipato mi raccomando non ve la prendere se non avete vinto ne farò degli altri e magari sapere che in questi casi la fortuna va un po dove vuole io non ho mai vinto niente forse solamente una volta un giveaway quindi vi posso capire benissimo mi raccomando continuate a seguire mi raccomando anche attivate la campanella così avete tutte le notifiche quando carico un video vi mando un grosso bacio ci vediamo come sempre nel prossimo video mi raccomando fate bravi ciao